Nessuna licenza C, nessuna concessione di bevande e alimenti e quindi di fatto nessuna riapertura al pubblico. La carelle sul castello Svevo di Oria, proprietà privata ben salda nelle mani della famiglia Romanine Caliandro e della Borgo Ducale, si arricchisce di un nuovo capitolo che tarpa le ali ai piani dell'amministrazione comunale e della stessa Borgo Ducale, la quale non è un mistero. Nel maniero federiciano è investito tempo e denaro al fine di farne tra le altre cose anche una sala ricevimenti. Ma per questo scopo serve la licenza C, quella della somministrazione negata già nel 2011 dal settore attività produttive del Comune che ora vissa quel provvedimento con una nuova relazione, se possibile ancora più dura e castrante. Il dirigente Emilio dell'Aquila alla fine del protocollo conferma il provvedimento di decadenza della segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente di tipo C. Come dire, niente ricevimenti, le motivazioni, tutte dettagliatamente elencate nel protocollo, spaziano dalla tipologia della zona dove sorge il maniero, tipo A, caratterizzata da pregio ambientale e interesse collettivo, alla natura stessa del castello, edificio monumentale del XIII secolo e pertanto soggetto al preventivo esame dinanzi a qualsiasi progetto di innovazione da parte della soprintendenza. I richiami legislativi sono numerosi, uno per tutti, quello dell'articolo 5 della legge 28791, secondo il quale la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Inaccettabile evidentemente per gli uffici comunali, che nella relazione non mancano di citare i presunti abusivismi edilizi, tuttora al valio della procura di Brindisi e del PM Antonio Costantini, titolare del fascicolo che portò anche al sequestro del maniero. Una bella batosta per la proprietà e per il sindaco di Oria, Pomarico, che nella concessione della licenza C aveva riposto le uniche speranze circa la riapertura al pubblico del castello. Senza concessione i cancelli del maniero più discusso d'Italia sono infatti destinati a rimanere chiusi, sigillati, più o meno come lo stesso primo cittadino che, interpellato sulla questione, preferisce non proferire parola. Devo valutare bene il da farsi. Lo farà anche la borgo ducale, probabilmente indecisa se avanzare l'ennesimo ricorso o se rendersi alla legge applicazione delle regole imposte, se non dalla legge, dalla rigidissima interpretazione del settore attività produttive del Comune. Traduciamo, AAA vendesi castello al miglior offerente, ma occhio ai vicini.